Momenti di rabbia e indignazione ieri pomeriggio durante l'esequia di Hermes Mattielli ad Arsiero. Rete Veneto ha seguito tutta la cerimonia funebre in diretta e ha dato voce a tutti i Veneti che erano presenti. Hanno parlato professionisti, cittadini, pensionati, partite IVA, imprenditori. Insomma tutti coloro che volevano parlare hanno potuto farlo e tutti hanno ricordato la figura di Hermes Mattielli, hanno tuonato contro queste leggi ingiuste che prevedono l'impossibilità di difendersi senza poi incorrere nelle maglie della giustizia ed è paradossale perché ci si aspetta che siano i carnefici ad essere puniti e non certo i cittadini inermi che esasperati come lo era Hermes Mattielli a un certo punto aprono il fuoco. Rabbia e indignazione più che comprensibili, urla anche la proposta di Gio Formaggio di demolire l'abitazione di Mattielli piuttosto che di lasciarla in eredità ai ladri. Addirittura qualcuno ha proposto di darla alle fiamme, qualcun altro ha detto facciamone un monumento, facciamo un presidio in modo che non venga toccato quello che testimonia ancora la presenza di questo rigattiere coraggioso che ha pagato con la vita il suo gesto, quello di difendersi dai ladri dopo ripetuti tentativi di furto nel suo deposito di feri vecchi. Quello che è la nota stonata in tutto questo è stato il finale, quando la gente è uscita sul Sagrato, sono usciti i sindaci e ovviamente avevano la fascia tricolore e si è gridato via il tricolore, via il tricolore prendendosela con questi primi cittadini che rappresentavano la repubblica per la quale loro amministrano i rispettivi comuni e i quali alcuni di questi, dietro queste urla e forse spaventati da queste proteste, la fascia se la sono tolta. Ora bisogna dire che siamo in un paese democratico dove ogni protesta è lecita, ogni manifestazione deve essere legittimata, così come sono le manifestazioni degli indipendentisti, dei venetisti, a cui ieri nessuno ha chiesto di togliere i vessilli che rappresentano la loro terra e la loro regione e quella che è la loro filosofia di vita anche. Il Veneto prima di tutto, il Veneto indipendente, tutte scelte rispettabilissime, però non bisogna, sventolando un vessillo, pretendere che se ne tolgano altri. Questo è un gesto poco civile, sono richieste e intimidazioni che non possono essere accettate e purtroppo ci sono sindaci che di fronte a queste pressioni cedono, chinano il capo e obbediscono. È stata una pagina triste perché tutte le battaglie sono legittime, anzi soprattutto va rispettato chi lotta per la libertà, grande rispetto per chi lotta per la libertà, ma se si lotta per la libertà non si deve tentare di pregiudicare e togliere quella degli altri.